I 200 anni della nascita di due giganti della musica, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, faranno da sfondo al tradizionale concerto per la Festa della Repubblica organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Appuntamento domenica 2 giugno alle ore 20 e 30 presso l'Auditorium RAI di Torino con un ricco programma di sala che vedrà tra gli altri brani tratti da Il Trovatore, Nabucco, L'Olandese Volante, sotto la guida del direttore Daniele Rustioni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, previo ritiro dell'invito presso gli sportelli dell'Auditorium.